No, io e lui siamo due persone che si sono sposate, si sono amate, si amano, hanno fatto dei figli e l'amore non è solo l'amore fisico di attrazione, l'amore credo che ci sia anche una volontà di portare avanti quelle che sono i piaceri e le necessità dell'altro. Lui è una persona molto romantica, io non lo sono per niente, lui è una persona... Molto passionale. Io lo sono pochissimo. Figo, eh? Eh, ho capito, però quando è che te ne accorgi? Quando cresci e capisci che effettivamente sei un qualcosa di diverso.